Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di Trebimeteo.com all'appuntamento con le previsioni per la nuova settimana. Nuova settimana che almeno nella prima parte vedrà un tempo del tutto analogo a quello che ci ha caratterizzato in questi giorni. Infatti l'Italia continuerà ad essere interessata da correnti piuttosto freddi e dai quadranti nord orientali che riproporranno dei rovesci sparsi, in particolare nella giornata di lunedì, lo vedete ancora sulle regioni meridionali ma qualche fenomeno indugerà anche sul versante adriatico, assumendo carattere nevoso anche sotto i mille metri. Ancora tempo discreto invece al nord ovest ma con tempo buono anche sul nord est sulle centrali tirreniche sebbene potranno essere raggiunte da un po' di nuvolosità ma senza fenomeni e anche nei giorni successivi, lo vediamo in questa grafica, nella giornata di martedì vedete ancora un po' di instabilità che proseguirà sulle regioni meridionali sebbene con fenomeni comunque meno incisivi rispetto a quelle di dei giorni scorsi, infatti notate come questa bassa pressione si allontanerà verso la Grecia e quindi attenuerà il richiamo di correnti da nord est. Ci sarà un graduale miglioramento sulle regioni centrali con bel tempo prevalente ancora a nord grazie ad un temporaneo rialzo della pressione ma attenzione a questa perturbazione che si avvicina e che ci raggiungerà nella giornata di giovedì e che sarà collegata niente meno che a un lobo del vortice polare che come vedete da questa mappa andrà ad interessare buona parte dell'Europa centro settentrionale dove avremo forti venti nevicate anche in pianura ma le cui spire si allargeranno gradualmente anche verso la nostra penisola. Gli effetti comunque saranno ridotti sulle regioni settentrionali perché ci sarà la barriera alpina e quindi dovremo avere delle veloci perturbazioni con precipitazioni più probabili sul nord est, nevose a quote basse se non attratti anche in pianura. Tornerà invece il mal tempo soprattutto da giovedì e venerdì al centro sud ed in particolar modo sui versanti tirrenici che saranno battuti da forti venti di libeccio con rovesce temporali frequenti e nevicati in appennino questa volta più abbondanti sul versante tirrenico. Le temperature saranno in calo ma non arriverà il gelo, sarà un calo termico del tutto normale per il periodo in corso. Insomma in questo frangente l'inverno si troverà ad un bivio sul Mediterraneo perché la situazione è molto delicata, basta infatti un lieve spostamento verso ovest di tutta la struttura perturbata per poter determinare i scenari più perturbati anche sulle regioni settentrionali con poi fenomeni tutti da valutare. Quindi una situazione estremamente delicata da seguire passo passo e vi ricordo che potete farlo anche scaricando la nostra app gratuita per tablet smartphone.